Ed eccoci qui in questo pass pronostico di questa sera che vedrà sfidanti Roma e Palma, ma passiamo subito al campo con Colarob che ci prova, vediamo un po' Colarob, per carità, per carità, per carità, Colarob, per carità, poi ci prova ancora Roma con Kalinic addirittura, vediamo un po', Kalinic, sepe, il miracolo, gran bella girata di Kalinic, ma sepe, para. Ma attenzione perché passiamo al ventiquattresimo, grandissima azione della Roma con Diavara, perde la palla al Palma, ancora Diavara che ci crede fino all'ultimo, Kalinic, incredibile, si è sbloccato, Kalinic, in Coppa Italia, dopo un anno di digiuno, al quarantasesimo ancora la Roma con Cristante di testa, pessimo colpo di testa da parte di Brian Cristante, al novantaquattresimo, Scozzarella, ci prova, vediamo, per carità, i soliti tiri de merda de perso che, onestamente, non ce li metterei mai, comunque non è stata una grandissima partita, presumo sia così anche sulla realtà, infatti, una partita molto molto tirata, soprattutto perché c'è in ballo il passaggio del turno contro la Juve, e sarà molto molto difficile questa sera, anche perché ci sono tantissime assenze, e niente, speriamo bene, appuntamento dopo per la partita, e niente, speriamo sempre, Forza Roma!